È un anno speciale, un anno un po' particolare questo, insomma con lo sciopero di Sagaftra che sostengo e che sono molto contenta delle lotte che stanno facendo. Sicuramente c'è stato un attimo di trombusto quest'estate, però anche la scelta di Barbera di invitare così tanti film italiani in qualche modo mi fa molto piacere che ci siano così tanti film italiani in concorso. All'80s è un mostro internazionale d'arte cinematografica di Venezia nella serata dell'ultimo film italiano in concorso, l'attrice veronese Valentina Berlè che interpreta Margherita nel film di Giorgio Diritti con un luminoso sorriso conquilta la scena sul tappeto rosso. Il mio personaggio Margherita invece è un'italiana, anche lei è emigrata in Svizzera durante la guerra come succedeva molto spesso in quel periodo per gli italiani e nel film lei in qualche modo rappresenta una possibilità di tenerezza, una possibilità ancora d'amore per l'ubo e l'ubo per lei. La parola, il regista. Sto provando un senso di gioia e felicità perché insomma ho già i capelli grigi e quindi essere qui in concorso diciamo è un sogno che coltivo anche da tempo. Sono contento poi in particolare perché essere qui vuol dire portare l'ubo, questo film, questa storia particolare che parte dal romanzo di Mario Calatore, il seminatore che mette in luce una cosa poco conosciuta e c'è questa discriminazione un po' che c'è stata nei confronti di un'etnia nome degli ienici in Svizzera a cui portarono via i bambini dagli anni 30 fino agli anni 70.